Top Chop di Steven Cavagna su questa RAT Drag Questa categoria in tempi sono di più che hanno verso E' quello che vince in turno In questo caso non siamo ancora eliminatori di retta Siamo nelle fasi di qualifiche Che saranno pronti, pronti, pronti Che possono sentire gli aspetti In qualifiche sempre vanno a definire gli abbinamenti delle fasi finali